Abbiamo cercato di fare punture di vitamine per l'economia regionale perché riteniamo che il sistema regionale sta cercando di reggere l'urto delle difficoltà e la Regione Emilia-Romagna vuole sostenere le imprese che continuano a credere nell'Emilia-Romagna, nel valore del lavoro, nel valore dell'impresa e noi abbiamo cercato di far scorrere alcune graduatorie, una per le piccole e medie imprese con 192 imprese che troveranno risposta per fare investimenti aziendali e assicurare circa 500 posti di lavoro, un'altra per stimolare le start-up attraverso la ricerca e l'innovazione, i luoghi per fare imprese e quindi mettiamo a disposizione altri 3 milioni di euro, altre ipotesi per i giovani per cercare di rafforzare quell'asse che noi riteniamo estremamente importante della ricerca e del rapporto con l'impresa perché attraverso questo possiamo continuare ad assicurare occupazione. Quindi il tema delle imprese e del lavoro è al centro della strategia regionale. Oggi abbiamo cercato, ripeto, di fare qualche puntura per cercare di portare un po' di ossigeno e di energia, dobbiamo continuare a farlo perché questo è l'obiettivo per uscire dalla crisi più forte di prima. La situazione è macchia di leopardo, la situazione è che ci sono comparti che stanno andando bene, anzi benissimo, altri che sono in grandissima difficoltà. Su questo noi dobbiamo concentrare gli sforzi in un rapporto corretto con il governo, bisogna che parta subito la Sabatini nazionale perché credo che questo sia un punto fondamentale per stimolare l'impresa ad investire, bisogna cercare di trovare le condizioni per rimettere in tasca di lavoratori e di imprese un po' di risorse per riavviare i consumi interni, bisogna rimettere in campo anche il rafforzamento delle politiche regionali. In questo senso le punture di energia che abbiamo cercato di mettere in campo oggi vanno proprio nella direzione di aiutare le piccole e medie imprese, di aiutare gli artigiani, di aiutare il tessuto profondo dell'economia della nostra regione ad investire e a occupare perché questo credo che sia la priorità per il sistema regionale.